8.000 di ante, 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 ciao a tutti ragazzi, quest'oggi ci troviamo ad una bellissima partitina su CS, sono una bellissima corsa alle armi, son da solo, son da solo, ah no è un amico mio, mamma mia è un amico mio, I'm so sorry la peppina, sei qui, ti ho visto, sai che sei qua, stronzo, stronzo, allora siamo una corsa delle armi, alle armi una corsa, vabbè si sta correndo ragazzi, corre, ok, si però, bella peppina, eh, subito, ok, vediamo qui chi c'è, vediamo qui chi c'è, allora ragazzi niente, siccome ho voglia di vincere qualche bella partitozza, certo va bene, non so come hai fatto a vedermi, vabbè forse mi hai sentito, dai forse mi hai sentito, ma va bene così, vabbè fa muori o vuoi un bacetto per morire, non l'ho ucciso io, non ci voglio credere mai ma che cosa, oh il pipi bison, oh il pipi bison, chi avviaro tutti i brutti stronzi di merda allora, mamma mia ragazzi, oggi sono infoiato, sono infoiato come la merda ma che non mi ha visto, mamma sei scarso ma non mi ha visto mai vabbè no, qui ho sbagliato io, proprio ho sparato di merda oh, mamma mia, brutti bastardi, figli di zozza sta mappa di merda e là minchia, volando, volando come una libellula mamma mia, pepo che li uccide volando come una libellula leggiadra, eh, eh, pro oh, suca, ti ho preso, ma ti ho preso malissimo yes, mamma mia, mi sento così pro minchia, ah ah ah, alucard si vendica vola, suca, ah ah, ti sono bastardo, succhiamelo dove sei brutto stronzo, figlio di zozza cadi dal cielo, sì, cade dal cielo perché sono quei fottuti bastardi che volano oh, non morire, mi raccomando, eh ma va a non morire, eh vabbè, lui mi uccide con il oh oh eh dai, bastardi no, no, mi hanno rubato la kill bastardi suca suca ah, cazzarola chi è primo? io sono terzo con undici mamma mia, sto andando malissimo sto andando sta mappa non la so giocare proprio succhia, ti ho ammazzato succhia, ti ho ammazzato oddio, c'è l'AVP già? su, chiamalo, baby dov'è, 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 dov'è? no, devi morire porca cazzo, non l'ho ucciso oh mamma mia, vi devarare troppo vi devarare troppo no, perché vi devarare oi, dov'è? su, chiamalo, baby ah, cazzo, ti ho mancato oh, su, cababi dov'è, rimalla sopra ah, ti affaccio male ti faccio dove siete bastardi mamma mia, qui cadono dalle fottute pareti che c'è, l'AVP è l'AVP io ti esco pre-fire certo, ti esco pre-fire se ti prendo oddio, t'ho preso io con il mitraglione non lo prendo mai mamma mia, sto mitraglione tu sei figlio di troia no, seriamente tu sei figlio di troia su, che bastardo quanto siamo? 19, 10 20, 15 ma volendo siamo tutti allo stesso livello ok dai, no non l'ho ucciso io dove è il bastardo? che fa, muori o vuoi un bacetto prima di morire? vuoi un bacetto prima di morire? oh, 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 oh avete un buonere? non muoiono mai non muoiono mai sono invulnerabili al piombo cazzo siete e morite o? cazzo siete ma no, ma non ne trovo succo succo no, cazzo mi hanno rubato la kill bastardi succo no, bastardo tu da dietro no, bastardo figlio di zozza dov'è il bastardo che spara? e levati no, qua chi è? chi è? oh, oh non accoltellare me figlio di troia che fa? muori subito baby oh baby no, cazzo quanto sta? makers 26 no, 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 no non deve vincere lui non deve vincere lui cazzo devo ricaricare su, ca ti ho ucciso io su, ca ti ho ucciso io su, ca no, cazzo cazzo no, 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 no siamo 26 a 26 oddio, siamo 3 a 26 vediamo chi vince vediamo chi vince sì vince beppo 3, 3, 9, 3 quindi li ho arati hai ucciso 80 nemici su 100 per la modaia esperto quindi se il video vi è piaciuto come sempre lasciate un pollicione in su qui sotto al video perché io ne faccio un'altra yes oh yes baby yes mamma mia ne facciamo un'altra no, 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 no mi gasa mi gasa mi gasa gg peppa3393 ha vinto questa partita oh yes madafaka un'altra 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 sì e sono pure da solo sono pure da solo oh yes madafaka yes vediamo questa qui come la va la prima l'abbiamo vinta brutalmente sì anche se siamo stati abbastanza pure fortunatucci dai 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 andiamo nei 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 antiterroristi vai gli antiterroristi portano bene portano bene gli antiterroristi beh puoi morire se vuoi eh non dico va nessuno ti ok va bene quanto fa va bene beh non muoiono ok deve iniziare la partita siamo a riscaldamento brutto bastardo ok va bene mai sparare i propri alleati perché che succede se si spara i propri alleati si è dei pezzi di merda ecco essenzialmente è questo cioè non si fa per oh sì babbi oh sì baby oh da dietro figlio di zozza oh cerca di non ferire i tuoi compagni dai che bastardo mi ha ucciso da bastardo zozzo zozzo mamma mia su chiamalo babbi oh sì lo so che si dice baby però babbi fa più più mamma mia non muore mai mamma mia ma sono scarsi mamma mia mamma mia non so quello che faccio mai ok allora dove siete figli di zozza mamma mia guardati 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 accanto perché non ti guardi è sempre su zacca che cafico quanto io ho fatto 96 con cei colpi mamma mia non l'ho capito ti dovevo legare una sedia per ammazzarti brutti bastardi la peppina da dove dal cielo dal cielo ma brutti figli di zozza dove sei dove sei bastardo dove sei mamma mia mi ha ucciso a random random mi uccide a random mamma mia madonna non muore mai figlio di schifosa figlio di schifosa mi vendico come non mai mi vendico dove sei bastardo figlio di schifosa madonna non muoio no random giuro ti faccio male random soka soka non muore quanto io ho fatto nessuno non l'ho preso mai mamma mia schifoso giuro adesso scopre fire non li uccido mai sono le persone più forti del mondo che cazzo avete fatto con l'avp con l'avp schifoso figlio di puttana bastardo muori o vuoi un bacetto per muore oh io non muoiono mai soka morto ok canne mozze canne mozze canne mozze baby oh mi sei appassato davanti random ti stanno dominando uoi soka ok mamma mia che cazzo siete aspetta oi 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 io non so da dove cazzo su chiamalo baby no cazzo quando cambia l'arma te la deve fare fastidio odio oi dove sei sei qui sopra da cazzo da cazzo dall'alto ti avevo visto quanto stai e mi sa che vince lui questo che cazzo e vabbè con la pistola eh eh però sei fastidioso eh non muore non muore che cazzo eh vabbè però eh non muore mai io sono solo a 14 però eh su chiamalo baby affacciati dai no ti avevo preso ma muore o mamma mia non è l'ho fatto vincere fantastico quindi ragazzi ne ho vinta una ma ne ho perso brutalmente un'altra quindi ragazzi se il video vi è piaciuto come sempre pollice in in su commentate condividete noi ci vediamo in un prossimo video e nulla ragazzi ciao ciao oh yes